I resti dell'elicottero che si è schiantato ieri all'aeroporto di Preturo sono coperti questa mattina da un telo verde. L'incidente si è verificato ieri sera, come dicevamo, all'aeroporto dei parchi di Preturo, con l'elicottero che, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, ha avuto delle difficoltà nel decollo. Si è prima ribaltato e poi schiantato a terra con un impatto molto forte. A bordo c'erano due passeggeri, rimasti feriti ma fortunatamente in modo lieve. sono riusciti, infatti, da soli a distrarsi dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 per gli accertamenti del caso. Una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata. Secondo i primi rilievi effettuati, il pilota dell'elicottero, avendo avuto difficoltà nell'atterraggio, sarebbe stato costretto ad una manovra che ha provocato l'incidente. Sono in corso le indagini.